. . . . . . . . . Tenente, navi sovietica! Alinearsi! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Attenti! Aliaglio, il chietto d'onore ha tirato i suoi ordini! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Comandante per l'admirale Yermakov Il comandante contro l'admirale Yermakov Molto piacere! Comandante per l'armerale Yermakov Comandante per l'armerale Yermakov Comandante della nave, capitano Yenkov Grazie! Prego! www.mesmerism.info Ci fa piacere che le vostre navi sono così ben armate di sorrisi sinceri e di buona volontà My rade, che na voeruze i vostri корабli оказались takie чисто serdeczne ulypki e dobre чувства Credetemi, non sono pessime armi per i nostri tempi poco tranquilli Poverte, che questo non è fuori оружio nel nostro spettacolo tempo Propongo un brindisi perché questo mare sia sempre un mare di pace e di cooperazione Grazie! 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 1900 anni fa, in un giorno, il paese è morto da l'esmergazione del vultano. Nel 17 secolo, il paese è restato sotto il cammino e il perello. Perchè, ti sono Pompèi. Voi sono dei pompei, ragazzi. Grazie a tutti. il comitato il comitato per Rima. Il comitato il comitato, dove la politica e la storia di Pompei. Adesso siamo arrivati nel comitato, con il comitato di tutto il comitato. Pompia è un labirinto, si è un labirinto. Questa è una delle centrile di Pompei. È una del comitato. È una del comitato, che è stata spesa dell'inizio. Qui si è una soluzione. Poi andiamo. Qui si fa? Torni, chiamati. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie a tutti. 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 . . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. 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 . . a tutti. 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 . a tutti. . a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.